Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sarà bella tosta, andiamo ad analizzare quel bruttissimo botto che mi ha visto coinvolto insieme a Mantovani al Mugello Andando ad analizzare molto più nel dettaglio Purtroppo volevo farvi vedere le immagini della Max 360, o meglio, speravo ci fossero Invece, come potete vedere, è completamente esplosa E l'ultimo file che stava girando, che era quello dove appunto è successo il botto, è andato corrotto, quindi perso Ma in ogni caso possiamo tranquillamente farne a meno Detto questo, prima di iniziare ve lo ricordo, siete in tantissimi che si stanno iscrivendo in questo ultimo periodo Sono stracontento, però ancora tantissimi di voi non sono iscritti e guardano i video Quindi mi raccomando, supportate il canale, basta un clicchettino qui sotto Detto questo, sigla e poi iniziamo Bene ragazzi, inizierei analizzando ovviamente il botto che ormai conoscerete molto bene Con l'ausilio di questo stupendo selfie stick che aiuterà a indicarvi il tutto Tecnologia avanzatissima a casa Salvadori, lo so Con la tecnologia che non ci aiuta In ogni caso iniziamo secondo per secondo a vedere quello che è successo E poi scaveremo un pelo indietro nel passato a vedere delle situazioni sia personali a parte invertite E anche di qualche situazione MotoGP molto simile a questa Non sto neanche a dirlo perché lo sapete si è creato un dibattito della Madonna Su chi avrà ragione, direzione di gara, deve decidere, gli altri devono stare zitti E bla 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 E con questo video appunto voglio dare tutti i dati necessari per riuscire a farsi un'idea Sia che questo video lo stia guardando un addetto ai lavori Sia che lo stia guardando un classico appassionato Contestualizziamo la situazione Secondo giro di gara della Pirelli Cup Sono in scia d'Andrea nel retinino principale Riesco ad affiancarlo, a passarlo E a quel punto iniziano i casini Ve lo faccio vedere per l'ennesima volta a velocità normale Ma andiamo a rivederlo secondo per secondo un attimino più nel dettaglio E siamo come potete vedere qui alla distanza dei 300 metri dalla staccata Più o meno al Mugello in quella zona si frena sui 180-200 metri Dipende dall'abilità del pilota Andando avanti abbiamo ancora quasi 100 metri di full gas Dove non si vede ma penso sia un dato oggettivo che sono davanti in questo punto Anche se alla mia sinistra non si vede nessuno E questo è un dato ancora più importante Perché io al momento sto facendo la mia linea Non sapendo più dove è Andrea So che è alla mia sinistra ma non so quanto è indietro o quanto avanti È lui che mi vede al momento della staccata E ha molto tempo per decidere le sue azioni Al contrario mio Comunque in questo punto come potete vedere La forcella va giù Inizia la staccata Esattamente su questa linea bianca qui Ok? I 200 metri sono là in fondo Avendo preso la scia ed essendo arrivato più forte Stacco un pelo prima in questo caso Proseguiamo Qui Tutto liscio Tutto liscio Tutto liscio Tutto liscio Io essendo davanti e vedendo già i 100 metri qui E passati 100 metri bisognerà iniziare a portare la moto in inserimento curva Non penso neanche ad Andrea che dall'esterno può andare a chiudere la traiettoria Qui ancora con il mio campo visivo non mi rendo conto di nulla Semplicemente sto facendo la staccata al mio limite E da quello posso fare ben poco Qui potete iniziare a vedere già l'ombra di Andrea che si sta avvicinando E sta mollando i freni per cercare di resistere all'esterno Qui Andrea appunto potendo vedermi ha la situazione completamente sotto controllo Molla i freni Molla i freni Molla i freni Io solo in questo punto sto capendo cosa sta per succedere E solo in questo punto ho due decisioni da prendere O mollo anch'io i freni ma già è ora al limite e non ci sarei quasi stato dentro la curva Oppure mi attacco i freni come ho fatto per cercare in ogni modo di evitare il contatto Ma come ben sappiamo dal che io vedo la sagoma di Andrea Passano meno di mezzo decimo di secondo non lo so In metri qua ci sono i 50 Saranno 15 10 metri Fate il conto di quanto sono a 220 km orari per prendere una decisione Potete capire che è assolutamente impossibile per me se non mi viene lasciato lo spazio fare altro che attaccarmi i freni Dal momento nel quale io posso prendere una decisione per evitare il bordello Passa niente Ripeto è completamente imparabile Poi si può discutere incidenti di gara non incidenti di gara e tutto quello che volete Comunque in ogni caso ne parliamo dopo più precisamente Adesso andiamo a vedere altri due casi Uno dove mi sono ritrovato io nella posizione di Andrea E il caso classico che conoscete anche voi appena successo in MotoGP con Zarco e Morbidelli Ah dimenticavo prima di andare oltre Secondo me l'unico errore che ha fatto Andrea in questo caso è quello di non lasciare spazio all'altro pilota Uno può tranquillamente provare l'attacco all'esterno Però senza lasciare spazio si rischia tantissimo tutti e due e questo è il risultato che nel 99% dei casi viene fuori Questo sorpasso immagino ve lo ricorderete in molti Misano National la gara che ho vinto sculandosi lo sono ricordatemelo Comunque ci troviamo a tre in staccata Io, il buon Santoro e Saltarelli Qui cosa succede? Santoro cerca ovviamente all'interno Saltarelli si ritrova un po' nel mezzo E io l'unica cosa che posso fare è buttarmi in questo piccolo spazio che c'è alla destra Cioè all'esterno Stessa identica situazione In questo caso al contrario che con Andrea Faccio apposta a staccare molto più sotto rispetto al mio solito In modo da sapere di lasciare spazio a Simone Perché se avessi staccato come al solito al limite insieme a lui Quando sarei andato a chiudere la traiettoria mi sarei trovato esattamente nella situazione di Mantovani Cioè a togliere la ruota anteriore a Simone In questo caso quando sono davanti io non posso sapere dov'è lui Devo sempre avere una sorta di spazio bonus Dove sono praticamente sicuro al 90% che lui non mi verrà addosso Anche se tento un sorpasso così particolare all'esterno E guardate un po' Arrivati alla corda Qui potevo tranquillamente fermarmi di più E andare a chiudere Sull'interno E sarebbe stato molto più difficile Per Simone rispondermi Però molto più pericoloso ovviamente per tutti e due Perché ci si sarebbe ritrovati nella stessa identica situazione del Mugello Invece ho fatto apposta lasciare tutto lo spazio possibile In modo che anche senza guardare Perché vi ricordo io sto guardando avanti Non posso sapere alla mia sinistra più indietro dov'è Simone Ma bisogna sempre lasciare uno spazio di sicurezza Ripeto per l'ennesima volta Qui per me era molto più vantaggioso Fermarmi molto di più e chiudere la traiettoria Invece l'ho tenuta larga Apposta per far sì di non fare un torto a un mio avversario Poi il sorpasso si è chiuso Simone ha fatto fatica a uscire di curva Perché era un po' in crisi con le gomme Io ho fatto il sorpasso Nessuno si è fatto male E tutti felici e contenti Io non parlo delle penalità che possono venire date o meno Parlo dell'intelligenza nella gara E parlo che dato che si va a 300 km orari E che quando si batte la faccia per terra non ci si fa bene Se si riesce a essere intelligenti durante la gara Ci si fa meno male Che non mi sembra una roba schifosa Poi non lo so Potete dirmi anche voi Ve lo faccio rivedere per l'ultima volta in velocità normale Ma attenzione perché Savadori va tutto sul cordolo esterno alla quercia Si inventa qualche cosa Si inventa qualche cosa Bene adesso passiamo alla MotoGP Botta allucinante tra Zarco e Morbidelli Austria 2020 Voglio ricordarlo Zarco è stato sanzionato con una partenza dai box Quindi in breve questa malovra che vediamo adesso è stata dichiarata irregolare e antisportiva Vediamo scia di Zarco Prende la scia Qui si affianca a Morbidelli Non riesce più a starci perché arrivano giù a 320 km orari Taglia la traiettoria a Franco Qui gli è davanti Va a frenare perché ormai non c'è più spazio e la curva è lì a pochi metri Patatrac cadono eccetera eccetera Tornando indietro possiamo tranquillamente dire che è molto simile a quello che è successo sempre lì al Mugello Taglio di traiettoria Questa volta dall'interno verso l'esterno Franco si è ritrovato praticamente nella stessa mia identica posizione Cioè in questo momento cioè fino all'ultimo momento lui non vede dov'è esattamente il buon Zarco Lo vede solo in questa frazione di secondo Capite che è impossibile salvarsi da una situazione del genere E questa volta hanno avuto la peggio tutti e due i piloti cosa che poteva tranquillamente succedere anche lì al Mugello E se vogliamo fare un confronto qui l'inizio della staccata è avvenuto quando Zarco era già davanti Invece nel mio caso la staccata l'ho iniziata dove io ero davanti al mio avversario Con buona pace di chi dice che le immagini della GoPro non erano chiare Voglio trarre le ultime conclusioni Si può dire che quello che è successo tra me e Andrea poteva essere sanzionato Come in questo caso con Zarco e Morvidelli Si Si può dire che poteva essere giudicato come è stato giudicato un incidente di gara Si Si può dire che quella manovra era totalmente stupida Era tranquillamente evitabile e ha messo a rischio tutti e due i piloti Assolutamente si Questo è il mio pensiero Fatemi sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti Per favore non scannatevi Io ho detto la mia dando un po' di dettagli in più Cercate di fare anche voi lo stesso qui sotto Come al solito se non siete ancora iscritti al canale Iscrivetevi se lo siete già Attivate la campanellina Gas e ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao